il problema è che la nascita e la famiglia è la famiglia Poi, ne sei pazza. No, basta. Non puoi essere imparato. Non sai, perchè ne ne rascondi quando si rigevano la famiglia. Nel primo tempo con la famiglia piena si è scappurata. Ma che me ne frega. Non sapevo che è un concorso. Non sopevo che dimenticate. Allora casa, casa, casa. Non senti un attimo! 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 e un attimo! e un attimo! e un attimo! è 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 un attimo! attimo! è un attimo! è un attimo! 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 Non è che lo stanno a porta, lo faccio tra un pochino. L'ho incontrato al centro commerciale. Gli ho detto, guarda, sabato c'è la cena e la spalla. Non mi ha detto, ne ho, so, non lo so. Quando è sabato ci sarò. Monte Rosso sempre a te. Bruno, 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 Bruno. Grazie, a voi, a voi. Buon amore. Sono benzina, eh? La benzina, capitano, benzina! Grazie, la fascia non dava, la fascia non dava. La fascia non dava. C'è un guatto di registrazione messo a fa. Eh, c'è la colonna. Allora, viene a San Severino con furoni. Pensavo, immaginato, di trovare molto avuti. Sono seghe, bravo. Forne e se. Qualche schiaffio a casa di Mariusci. Mi ha detto, è un po' è un po' è un po' è un po'. Se ricordi, tu capisci. Ma no, quella è il prezzo e tu perdisci. Lo so, tu che lo so. Hai avuto una consistenza al centro campo che io da capitano in dieci anni penso che non avrei mai... Sì, sì. Eh no, no, ma danno scherzata. È un grandissimo calciatore, tacendo il campo proprio... Alessio ragazzo! Alla pass! Alla pass! Alla pass! Alla pass! Alla pass! Alla pass! Ci assemblano uno spogliatoio Che è... che è... Le nature è anche lo più forte Le nature è anche lo più forte che sprizza sempre i classi, gli ocali prima Però si fa spesso male, come diceva Mancini E' un pallone per chi si fa male Però è il più bravo E' uno dei più bravi Se fa male poco E' 20 milioni Un saluto a vincere Un saluto a vincere! 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 Grandi vincere! Grazie a tutti! Stupido! Ci sei Gidu! Ci sei Gidu! Sono Camanzini! Ci sei Gidu! Ci sei Gidu! A questa squadra! A questa squadra! Ogni tanto! Ogni tanto! Ogni tanto! Ci sei comprometto! Ci sei discutere! Ci manca questo! 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 Ci manca sempre! La chioccia in mezzo al Cambrio! Quello che cova! I giocatori! Quello che gli avvicini! Quello che gli avvicini! Quello che gli avvicini! Quello che gli avvicini! Quello che in mezzo al Cambio non sta! E' che basta che ci stai inseriti! La giornata! Grande mio Gettino! A ragazzo! Avviso, 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 è tornato, è tornato, è tornato, è tornato, lo volevo fare per l'ultimo, però per l'ultimo sono poveri, per l'ultimo, dopo non parli più. Sì, è stato tre non erano, io, io, il barrio ci andavo insieme, se è filmato su, è diventato un meglio il cane. Non ho mai visto, l'unica volta che poi si vanno fattendo la cazzata sì, forse vieni fa, prima volta che poi si vanno fattendo. Poi hei proprio passaggio con la carima. Se è mercoledio di ammette, non ci vanno fattendo. E che cazzo mamma? la pazza è quella la pazza è quella andiamo a fare 25 anni fa a distanza da 10 anni si va quello grazie per essere qui la pazza è quella la pazza è quella la pazza è quella è un po' psicopatico l'ho venuto a Dio, ha tirato un accettino con un raudo qui nella carima ha fatto anche la burda ha fatto via la burda l'ho venuto a Dio ma fanno i venti e le 9-8 e mezzo fanno gli 8 e mezzo che il cuore è trucato l'ho conosciuto veniva a Dioca sentiva le partite le partite della Juve sulla Ragnolina noi giocavamo a San Francesco però vandaci c'ha una carica in periore chi cazzo ce l'avevo gli altri la carica che c'ha tagliata qui cazzo oh 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 ogni anno mi recupino mister oh 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 era un fenomeno uno che faccava il mondo non è vero è stato sempre umile disponibile e sempre dovuto alla causa pazza sia che c'è che non c'è quindi a me ci stavamo poco però guardarci quello che fa sulla vita lo fa con noi altri c'è guida un po' ogni tanto che consiglio fanno che stanno un prefetto a noi altri ci indica la vita grande amore grazie oh è tre quarti ora che sto facendo sono tutti i coglioni c'è una coppia a capo d'aula che io non so se la conosce oh fatto qualcuno la conosce di più qualcuno la conosce di meno è il buon problema 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 parliamo non altre cose è il buon problema non è il buon problema è il buon problema è il buon governo è il buonaudience non è il buonnings non è il buonnings è il buonезде francese 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 C'è giù, ti danno, Luwaki sulle palle del l'osso, e finisce il canzellato, dicevo, la perata, ma non mi cazzo, io lo faccio a fare il prato, ma non mi cazzo, ma non mi cazzo, Mauro, 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 merdo, luwaki sulle palle del l'osso, stai guarda il tempo, ora, i giocchi che faccio questo, la scuotare, la ripanta, prenda lì il cazzo e va l'amore! Chi scegnerendo è scuscire il sole! Mauro, 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 Mauro! Segnate noi, alla mamma Felice! Svegliate noi! Allora la felice! Ehm... Ma come c'è? Ma come c'è? Oh! Il capitano! La mazzante tutta! C'è una persona che io ho levato da cucciolo e me l'ho trovato mai dentro Cioè tu sulla vita ti giunghi a casa, ti giunghi a casa e ti fai le carezze, lo fai bagnare Poi vieni a casa e ti schiava la porta da casa Dice quando ho boccato Cosa fai? Non è possibile Però, però C'è la dica che quando gli dai vediamo in la porta di casa sai che te la guarda per te Bravo Mario! Non vai andare vicinando! Ehm... Mister! 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 Discorso! 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 Aspetta! Un discorso! Un discorso dopo Il discorso dopo Il discorso lo fanno insieme Il discorso lo fanno insieme No... Senti! Un... Una mosca... Come if! Non voglio sentire una mosca Come? Adesso vi dico questo Se noi gli attestiamo qui C'è uno se ne fa una domanda e se ne ha una risposta, ok? E poi se ne la dico io Allora, tu No, guarda qua, come la parlerebbe in 10 anni che ne ha una risposta Allora, quando dici quando dici che te zitti che è che fanno comunque uno se ne ha una risposta e se ne ha una risposta se uno dici Samuè, Stato, Duda a ultimo fa la cena a casa sua Issu, c'ha invitato 30 persone ci sono da un pato chi ha su essa? Tieni a prenderla Tieni a prenderla Tieni a prenderla Tieni a prenderla Issu dice che è una stessa ma non si invece è prigionata Però se Issu la misera c'è la cena a casa sua Si sta ingartando La misera c'è la cena a casa sua perché non è la sua domanda lo ha trovato una società che si è sentito bene Ma quale società? Se si è sentito bene la squadra ha pensato se si è sentito bene la squadra ha cucito è perché c'è un presidente c'è un presidente c'è un presidente a cui a ogni persona glielo ha un valore voi non siete un numero di Decappallò fuori dai coglioni voi se siete qui è perché c'è un presidente che ogni persona la valuta la guarda la critica la osserva glielo ha un valore umano guardate nel 2014 dà un valore umano non è da dubbi facete bene qui non c'è facete io un applauso c'è solo un presidente un presidente c'è solo un presidente un presidente c'è solo un presidente un presidente c'è solo un presidente Portaci l'Europa Presidente Portaci l'Europa Portaci, portaci, portaci l'Europa discorso 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 mettiamoli su facebook questi video porco dio e facciamo vedere la carica porca madonna dopo stavo in semia non ci potiamo mettere ecco a posto ce lo voglio mettere lo voglio fare questa cena si piglia la puttana a posto non ce lo mettere gizu 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 lo voglio fare silenzio silenzio allora lo conoscete tutti lo facete così grazie la prossima stiamo in carico io ho detto solo che mettiamo su facebook fai parlare al presidente vado a casa questa gomma che sto vestito stasera sto a dire da sempre più piangi fuori e me non mi pia male non mi pia male perché è una cosa che mi pia è un onore è un onore però è un onore anche per i clienti che la vita c'è ancora sui cani lo so io non voglio andare con i clienti infatti non voglio andare con i clienti infatti non voglio andare con i clienti però è stato un onore comunque c'è lo vecchio e c'è lo non qui a vent'anni capito? che gli muore c'è uno come c'è anni come danni come li chiamo veli gli gusta ancora ci crede capito? è l'amicizia è porco di se non ho le poche parole invece Mario è commosso è commosso devo ringraziare devo ringraziare tutti quanti perché se siamo qui se siamo qui è per bene tutto e tutto io non torno in su io sono un po' grande amico una cosa grazie c'è il mio il mio pupillo che è ornel non perché voi non siete però il canto deve dire tutto non voglio che siete zitti perché il canto il scorso il scorso vai no zitti parlaci zitti oh zitti avete visto c'è molti presidenti proprio per questo c'è mister tutti noi il capitale grande capitale i sponsor virtuali che qua discorrono virtuali anche il nostro marketing che qua stanno sparando i marketing facebook c'è il nostro sito che è iniziato ma poi è morto riprenderemo anche quello però tutto nasce anche da che c'è ci sta anche un capitano vogliare qua no? un capitano che che a volte di difficoltà ci sta magari giustamente non come me che mi faccio più prendere da effetto ultras allora qua la bandiera la bandiera va per la parte del tipo è curva lui invece no sempre lì è carismatico è carismatico quindi per me cioè che poi ho iniziato con lui cioè per me capitano mio capitano bella bravi 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 Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!